Il Monte Cornizzolo è tra le montagne più note delle prealpi lombarde, comoda da raggiungere, offre un punto panoramico interessante verso le principali vette delle chiese e i laghi Brianzoli. Tra i numerosi sentieri per salire vi consiglio di partire dal lago del Segrino oppure dal paese di Canzo, in entrambi i casi arriverete su una splendida cresta panoramica, attorno a voi vedrete San Primo, i corni di Canzo e le grigne, mentre più in basso scorgerete il lago di Annore. Continuate lungo il sentiero che mantenendosi in cresta raggiunge la cima del Cornizzolo, a quota 1241 metri, dove è stata posizionata una bellissima croce metallica. Scendendo dalla vetta potrete valutare se salire sul Monterai, che sorge davanti a voi, oppure continuare lungo il sentiero pianeggiante verso il sasso di Malascarpa e la relativa riserva naturale. Si tratta di una delle zone di maggiore interesse geologico della Lombardia, dove potrete ammirare stupende affioramenti di calcare bianco, con un caratteristico aspetto a blocchi. In definitiva un'escursione varia, a due passi da Milano, completa e indicata da escursionisti e famiglie, che vi farà scoprire uno dei luoghi più affascinanti del triangolo lariano.